Salve a tutti, chi sta registrando questo video è un cacciatore che si domanda se il problema del 2020-2021 è appena iniziato sia il piombo sulle zone umide allora io mi chiedo appartengo alla categoria dei cacciatori e mi chiedo se il problema del 2020 sia il piombo guardate che roba guardate che schifo questo è quello che tante persone che non frequentano l'ambiente boschivo l'ambiente naturale vero e proprio non conoscono magari in questo momento stanno facendo gli animalisti dietro al computer dicendo gli ambientalisti più che altro perché qui si tratta di ambiente non tanto di fauna ovviamente indirettamente anche la fauna perché questa è una cosa che subisce la fauna però gli assassini, gli invasori, i trogloditi i diversamente, chiamateli come vi pare, chiamateci come vi pare sono i cacciatori gente anziana che ha 65-70 anni perché quello che dite è che la media di 65-70 anni io infatti ne ho 22 e niente questo è lo schifo che ci circonda guardate gli alberi guardate che vergogna che schifo state stiamo riducendo il mondo una merda e a cosa pensiamo? a cosa pensano veramente? cosa pensa l'Europa? al piombo delle cartucce per la caccia pensano a 32 grammi di piombo che inquinano le zone umide e avete ragione sì, è il piombo che crea inquinamento questo qui evidentemente l'ha creato il piombo è tutto piombo questo tutto guardate guardate che schifo guardate che schifo mi vergogno veramente mi fa schifo proprio guardate se possiamo andare avanti così guardate io vado avanti ecco la plastica che utilizzate a casa che fine fa dove arriva? sacchi di immondizia questi addirittura sembrano quelli da muratore per i calcinacci guardate addirittura gli alberi ovviamente sicuramente il fiume ha esondato qualche tempo fa e ha lasciato questo vergognoso vergognoso non è colpa del fiume assolutamente è colpa dell'essere umano però guardate che schifo io vi saluto e spero che questo video faccia riflettere tutti quelli che l'abbiano visto perché e la domanda è sempre la stessa torno a ripeterla non mi stancherò mai il problema nel 2021 siete così sicuri che sia il piombo delle cartucce per la caccia? siete proprio sicuri che il problema sia questo? guardate il degrado il degrado assoluto questa è l'Italia l'Italia dell'oggi del 2021 buona giornata a tutti questo è l'Italia dell'Ontario